Le relazioni della ministro Lorenzin e dell'assessore Borsellino sulle caso Nicole tra soccorso, trasporto e posti letto. La bimba si sarebbe potuta salvare? La ministro alla sanità accusa da Roma, l'assessore regionale alla sanità rincara la dose da Palermo. La neonata Nicole Di Pietro è morta e Beatrice Lorenzin dopo il lavoro dei suoi ispettori inviati in Sicilia e che hanno collaborato con l'assessorato regionale Tuona. A Catania non vi è la rete di emergenza e non è attuato il protocollo per il trasporto in sicurezza e dunque il rischio è che altri casi Nicole si ripetano. Nella clinica privata dove è nata Nicole è stata riscontrata scarsa capacità, nelle procedere, nell'immediatezza, alla stabilizzazione delle neonato, anche a causa di una non adeguata formazione delle personale. E poi vi sono state gravi disfunzioni nelle comunicazioni tra il 118 e le strutture contattate alla ricerca di posti disponibili. Se non interverrà la regione allora interverrà il ministero. I posti letto nelle unità di terapia intensiva neonatale UTIN in Sicilia sono 114, che è un numero superiore a livello nazionale che è di 80 posti letto. E perché Nicole non lo ha trovato? Analizzando le cartelle cliniche verificheremo se i posti letto occupati a Catania sono stati occupati ragionevolmente e non invece quando non ve ne è stato bisogno. Non vi sarà nessuna deroga per la chiusura dei centri con nemmeno di 500 nasciti all'anno. È pericoloso partorire in strutture piccole. Poi è stata la volta dell'assessore regionale Lucia Borsellino, che in assemblea ha riferito l'ambulanza con a bordo la piccola Nicole, partita dalla clinica GBI di Catania, verso Ragusa, un'ora e trenta minuti dopo la nascita della bimba. La piccola Nicole si sarebbe potuta salvare se fosse stata portata subito alla pronto soccorso di un ospedale, che per legge ha l'obbligo di accogliere un codice rosso. Al di là della disponibilità di posti letto, i posti letto in caso di condizioni particolari di urgenza e di necessità possono essere aumentati. Inoltre, il rifiuto al ricovero per mancanza di posti letto è illecito e configura il reato di omissione di soccorso e di omissioni di atti d'ufficio. È ipotizzabile inoltre il reato di interruzione di servizio di pubblica necessità. La regione si considera parte danneggiata e offesa nel procedimento avviato dalle procure di Ragusa e Catania. Anche purtroppo per l'esito in fausto di un evento che dovrebbe essere invece una festa per loro. I carabinieri delle Nass di Palermo e Catania indagano sulla gestione dei posti di unità di terapia intensiva in tutti gli ospedali pubblici siciliani. Nel corso di controlli e verifiche i militari hanno constatato che nella disponibilità dei posti delle unità neonatali UTIN vi è un prima e un dopo quanto accaduto a Nicole. Infatti, prima della morte della piccola è stato molto difficile per i sanitari del 118 reperire posti in presenza di un'emergenza. Adesso invece, dopo il caso della bimba morta, i posti UTIN si sono sempre trovati. La domanda è come mai i posti per la terapia intensiva erano sempre occupati e adesso invece sono liberi? Il Nass sospetta che i reparti sono stati dichiarati pieni per scongiurare gli eventuali tagli dalla regione siciliana in base alle verifiche sull'utilizzo dei posti letto.